E' partita la nuova stagione 2018 e 2019 della Fondazione Rete Lirica delle Marche. La fondazione, presieduta da Igor Giostra con la direzione di Luciano Messi e la direzione artistica di Alessio Vlad, è stata costituita lo scorso gennaio dai comuni di Ascoli Piceno, di Fermo, di Macerata e del sostegno della Fondazione Teatro della Fortuna di Fano. Il programma messo in campo per la nuova stagione teatrale è stato possibile grazie a un sistema di coproduzione e di alleanze strategiche implementato dalla Fondazione che non si limita alla partecipazione delle istituzioni marchigiane, ma intrattiene i rapporti virtuosi anche con altri teatri. La nuova stagione regionale e le sue molteplici collaborazioni sul fronte produttivo sono il primo concreto risultato di questa nuova realtà marchigiana, basato su una struttura gestionale agile e sulla valorizzazione delle mie stanze artistiche e tecniche. La Fondazione Lirica è una fondazione lirica delle Marche, abbiamo tre opere, Trovatore, che va in scena a Fano l'11 e il 13 di novembre, poi Così fan tutte a dicembre, e Falstaff, che partirà proprio come produzione da Fano. La serata dell'11 di novembre è dedicata ai giovani, Under 25, mentre la serata del 13, che è la serata per tutta la città, insieme all'amministrazione comunale e alla famiglia abbiamo deciso di dedicarla a Filippo Tranquilli. Ad aprire la nuova stagione teatrale a Fano sarà l'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Soprattutto ho voluto avvicinare la messa in scena a una realtà un po' più vicina ai nostri tempi, anche italiana, essendo spagnola, mi sono permessa comunque di approfondire un po' nella storia italiana recente, ambientata negli anni del fascismo, dove c'è questa rivalità tra due fratelli che non si sono fratelli e che fanno parte di due gruppi completamente opposti, come era l'epoca in Italia, dei partigiani e dei fascisti. Nel questo senso abbiamo voluto cercare un certo realismo per avvicinare al pubblico a una storia recente che anche cobra forse gli ultimi tempi come le cose stanno diventando in tutta Europa. Dunque ci fa pensare un po' a queste cose, a queste due persone che si sono volute uccidere dall'inizio dell'opera fino alla fine, finché uno riesce a uccidere l'altro senza sapere che sono fratelli. Forse se sapessero che sono fratelli avessero fatto completamente altre cose. Ovviamente sono state utilizzate anche delle musiche, qual è stata la scelta adottata? Le scelte adottate sono state quelle di una restituzione praticamente integrale della partitura con un approccio il più possibile belcantistico, perché si tratta di un testo che affonda proprio le radici nella grande tradizione del melodramma del primo Ottocento, quindi che guarda a ritroso verso il linguaggio di un Donizetti o di un Bellini, piuttosto che in avanti verso quello di un Mascani. Grazie.